Grazie a tutti. Ho fatto il mio dovere. Vedo un sorriso un po' particolare, hai abbattuto qualche capo? Anche oggi mi è successo e l'ho fatto. Anche oggi, quindi è una cosa che fai spesso? Mi viene obbligato a farlo perché sono degli specialisti. Assieme a Zio Madau siamo specialisti noi. Se non li abbattiamo noi non li abbatte nessuno. Queste cose di giovani ancora non sono capaci, li stiamo insegnando. Dell'intera stagione della caccia grossa appunto per quest'anno sei soddisfatto? Abbastanza. E oggi la giornata per quanto riguarda il tempo ha influito tanto? Ha influito forse più degli altri giorni perché oggi era una giornata di umidità che influiva più che altro per i cani e influiva anche per noi. Ringraziamo Antioco.